Scusami Claudio, c'è Pantani che sta scattando, scusa Claudio, Pantani davanti, il vincitore della tappa di ieri. La maglia rosa e due giovani che stanno veramente infiammando le strade del Giro d'Italia. È scattato Pantani, eccolo là davanti e per la prima volta vediamo Berzin un po' appesantito. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.